Siamo con Parisella della Connet Calcio a 5, insomma una partita che vi vedeva sicuramente sfavoriti nel pronostico, però voi comunque ce l'avete messa tutta. Nel primo tempo siete stati in partita, anche nella ripresa avete avuto comunque tante occasioni da gol, peccato. Certo, purtroppo siamo rimasti in pochi, abbiamo iniziato con una rosa di 22 ragazzi e oggi siamo venuti a giocare con 7 giocatori e due portieri, quindi già i cambi non ci sono. Certo ce l'abbiamo messa del tutto, però bisogna fare pure i complimenti all'ansio perché comunque è una bella squadra. Si riparte nel 2015 sperando di recuperare un po' di giocatori, anche un po' di entusiasmo, un po' di inerzia che sta mancando in questo periodo. Certo, speriamo, anche perché abbiamo adesso 15 giorni di riposo, dovremmo recuperare 2-3 giocatori e speriamo che ci porti un po' di fortuna nel 2015. Siamo con Lograsso, insomma anche lui protagonista di un ottimo primo tempo, hai tenuto inviolata la tua porta, poi anche il tuo collega ha fatto la stessa cosa. Dobbiamo dire che si chiude un 2014, sicuramente molto positivo per voi. Sì, era importante vincere e ci siamo riusciti, poi il merito anche a tutta la squadra e non solo a noi che siamo in porta. Dobbiamo dire che nelle ultime partite c'è stata una grande attenzione nella fase difensiva, correggimi se sbaglio, state sicuramente crescendo sotto questo punto di vista, subite molte meno occasioni rispetto a quanto magari succedeva qualche giorno da fa. Il mister sta facendo un grandissimo lavoro in allenamento e i risultati in campo si vedono. Giochiamo, facciamo quello che proviamo in allenamento e a volte ci riusciamo, a volte no e quando non ci riusciamo il mister avvelena. Ultima domanda, ti chiedo cosa ti aspetti da questo 2015? Siamo su, dire che non ci crediamo ormai sarebbe una bugia, siamo arrivati fino adesso a pochi punti dalla terza, ci crediamo ancora. Vogliamo salire?